I sondaggi sono sondaggi, io le leggo, me le spiegano, però insomma al limite posso dare qualche indicazione all'elettore, è importante, dico sempre, bisogna andare a votare, votate chi volete mandate a votare. Per me i sondaggi sì, hanno valore per carità, però aspetto il 12 giugno, quando sarà l'elettore, deciderà se ho fatto bene o se ho fatto male, per fortuna siamo in democrazia, la cosa più importante è questa. Possiamo dirci che non ci crede o che ne ha una visione prudente? No, sono prudente, ogni tanto vedo che è molto ottimista, qualcuno pessimista, io ho come sensazione positiva, poi per carità, giustamente l'elettore sceglie e sono contento che sceglie.